Molto si trascura il fatto che per amministrare bisogna essere capaci e determinati. Io come le dicevo prima, facendo una scommessa che non è goliardica, se andassi al posto di Marino per un anno sicuramente le cose cambierebbero. Cosa mette sul piatto? Perché la scommessa... Le scommesse si fanno con la faccia e quindi chi amministra ci mette in genere la faccia, che non è cosa da poco. Marino è la persona sbagliata nel posto sbagliato. Roma ha bisogno di una persona determinata e autorevole. Quello che sta accadendo anche in questi giorni con Marino, che un po' perde le staffe, un po' alzi i toni, cerca di prendere per il Bavaro l'amministratore delegato di questa società e di quell'altro, non porta il risultato, perché siamo in un contesto molto più ampio e molto più complicato. Tra l'altro mi piace anche ricordare che su Roma non ci sono scuse né in termini di risorse di disposizione, né in termini di volontà politica da parte del governo, sia di questo che di quello prima che di altri. Perché in ogni circostanza nei quali Roma ha battuto cassa, si è sempre aperto il cordone della borsa e dal forziere degli italiani sono sempre usciti i soldi, destinati poi ora a questa emergenza, ora all'altra emergenza. Ciò che non va bene è lavorare sempre in una idea che Roma sia in realtà sotto emergenza. non è l'unica capitale al mondo e non è peraltro tra le più complicate. Semplicemente le persone che la governano devono entrare in un'ottica di normalità. La rivoluzione che occorre per Roma non è una rivoluzione dove c'è da fare chissà che cosa, ma la normalità. Cioè quando io vado in piazza del Pantheon e devo fare lo slalom tra gli abusivi, questa non necessita di leggi, necessita semplicemente della polizia. Certo, della polizia o della locale che faccia valere le leggi, che tenga lontano gli abusivi dalle realtà del centro ma anche della periferia. Se vado a prendere un taxi e arrivo in treno a termini, non posso subire l'assalto costante degli abusivi. Queste sono realtà semplici che però danno l'idea di un sistema che è fuori controllo, dove non stiamo parlando di milioni di euro di investimenti che non ci sono, che bisogna fare la metropolitana, servono tanti soldi. Questo serve dappertutto, qui occorre la determinazione e la capacità di chi amministra. Aggiungo, si sa da sempre che Roma ha un'infiltrazione malavitosa, non fosse peraltro perché è la capitale, dove ci sono tanti interessi, ci sono anche sovrapposizioni di malavita. La gestione dei rifiuti non si ferma a Roma, la gestione dei rifiuti va fuori Roma. Quando vado e passo ad Orvieto e vedo la discarica delle crete, che sono più di vent'anni che è lì, dove Roma continua a portarci rifiuti. Non è stata chiusa, diciamo che per anni... No, funziona ancora adesso, ci stanno sversando ancora oggi. No, la discarica di Malagrotta, la famosa discarica di Malagrotta. È un'altra cosa, c'è la proprietà della discarica di Orvieto, le crete e di Acea. Le infiltrazioni e le diramazioni che da Roma partono, sono talmente tanto profonde e lunghe, che nessuno ancora oggi è riuscito a dare la vera descrizione del sistema, delle controllate e delle partecipate della capitale. È chiaro che lì dentro poi si annida, insieme al classico sistema che abbiamo visto, buzzi e carminati. Estremi opposti che si toccano, che si toccano per gli interessi. Allora, o si scardina questo, e mi dicevate prima, come si può cancellare il personale, lasciare a casa il personale se non lavora? Per Roma è stata fatta una legge, Roma Capitale ha uno statuto specifico, speciale, un riconoscimento speciale. Però non è che si può superare lo statuto dei lavoratori col potere speciale. No, 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 qui stiamo parlando dei dirigenti, cioè quando Ama mi dici che ha 70 dirigenti che valgono come mille dipendenti, qui c'è un'anomalia. Quando mi dici che la metà, anzi un terzo dei mezzi è in circolazione perché l'altro è sempre in manutenzione o non funziona, c'è un'anomalia. più